Prensa la foto, eh? Non ci ha trovato uno. Fermi, fermi ancora un attimo, la ripresa e l'ultima foto, eh? Non ci ha trovato uno. Fermi, fermi ancora un attimo, la ripresa e l'ultima foto. Fermi, fermi ancora un attimo, la ripresa e l'ultima foto. Fermi, fermi ancora un attimo, la ripresa e l'ultima foto. Fermi, fermi ancora un attimo. Fermi, fermi ancora un attimo. Grazie. Sì, decisamente, una partita combattutissima, i risultati l'hanno detto, 25-23, 25-23, li avevamo incontrati durante il girone, avevamo un pochettino patito, tant'è che avevano vinto loro 2-1, però è stato determinante, quindi le ragazze sono state molto brave a portarsi avanti con un risultato per noi molto promettente. Voi è il primo anno che siete a Città di Castello? Noi eravamo venuti due anni fa, con metà di questo gruppo, abbiamo fatto l'Under-14, abbiamo fatto la finale primo-secondo, ma quell'anno lì c'è andata male ed eravamo arrivati secondi. Complimentoni. Grazie, grazie a voi per l'organizzazione ancora, grazie mille.